Marchionne, il sogno incompiuto. Che tipo di pubblicazione è e da che cosa è nata l'idea? È nata da un numero, il numero che l'anno scorso, il giorno della morte di Marchionne, abbiamo fatto con il sito. Oltre 3 milioni di pagine nette viste. Quindi mi sono detto, è evidente che questo personaggio, oltre a essere naturalmente l'amministratore delegato della Fiat, colui il quale ha tentato di rimettere in sesto pezzi dell'industria, ha fatto tante operazioni finanziarie, è anche qualche cosa di più. Un personaggio verso il quale si nutre una grande curiosità. E allora mi sono detto, una biografia, ce ne sono altre molto interessanti, è una strada, oppure la strada è raccontarlo attraverso i pezzi del Corriere della Sera. E dunque la storia di un personaggio mentre viene raccontata dai cronisti. E dunque per esempio ci sono i primi pezzi pubblicati nel giorno della nomina nel 2004, da cui si deduce chiaramente a 15 anni di distanza, che quando lui viene nominato nessuno sa chi sia. E quindi è un modo per raccontare un personaggio attraverso la cronaca, che forse è la modalità migliore. Un manager che aveva un rapporto particolare con i cronisti, con la stampa in generale, un po' contraddittorio e qualche volta anche conflittuale. Io mi sono fatto questa idea, non tanto conflittuale nei confronti dei cronisti, perché comunque ha sempre rispettato i colleghi che magari hanno dovuto aspettare tanto tempo, prima che lui facesse una dichiarazione, oppure questo suo continuo andare tra Torino e gli Stati Uniti, quanto un rapporto conflittuale con il Paese. Nel senso che aveva delle idee, alcune è riuscito a realizzarle, altre non ce l'ha fatta. Infatti nel libro affrontiamo il tema della rappresentanza, il tema del rapporto con i sindacati. E in qualche modo quelle questioni restano di attualità ancora adesso. Un uomo che è un manager che ha avuto al di là di quelle che sono state le considerazioni in patria delle difficoltà notevoli a farsi spazio e di questo lui si è sempre comunque vantato. Provo a risponderle. Lui arriva nel 2004, poi tecnicamente la Fiat è una società sull'orlo del fallimento, insomma fa fatica a tenere i conti e quindi gli viene affidato un compito piuttosto complicato. Compito che lui interpreta sia col tentativo di mettere a posto da un punto di vista finanziario la situazione, quindi per esempio risolvere l'accordo con General Motors, ma poi c'è la necessità in quegli anni di consolidare, in una società che esiste ancora, di consolidare l'industria automobilistica. E dunque fa un azzardo che è quello dell'acquisto della Chrysler, che è anche essa una società tecnicamente fallita, che gli viene affidata. Forse negli Stati Uniti non molti credevano nella possibilità che questo, che è un po' il mito dell'auto, potesse rinascere, e invece questo accade. E da quel salvataggio nasce la questione di ora che cosa sia la Fiat, se la Fiat è più americana o più italiana, ed è una questione di adesso. Lui diceva che era nato nel vecchio mondo, si era formato in quello nuovo ed è stato capace di trasferire il suo imprinting gestionale a chi gli è succeduto, ha lasciato veramente molto. Ciò nonostante diceva che la finanza non può essere storia. In realtà molti analisti sostengono che la sua principale attività sia stata proprio la finanza, perché le iniziative di, come si dice, di spin-off, ovvero dal primo titolo Fiat, è nato Fiat Case New Holland, poi Ferrari, poi... Io non concordo con questa interpretazione, nel senso che lui ha tentato molto anche sul lato industriale, però probabilmente le due cose, l'attenzione alla finanza e l'attenzione all'industria, sono difficilissime da tenere insieme. E mentre quella finanziaria si risolve con negoziati, con le banche, con gli intermediari, quella industriale ha la necessità di essere negoziata con un tessuto più complesso, che è il paese nel quale operi, dunque con quelli che si chiamano stakeholder, con il territorio, con la politica, con le regole. E forse mentre nel primo campo, quello della finanza, tutto gli è riuscito in modo non più semplice, ma in un terreno più agevole, nel secondo, dove sono necessari momenti di compromesso, di mediazione, i risultati sono stati meno evidenti. Nel legare tutto il lavoro che ha fatto, che cosa ha scoperto di Marchionne, che forse noi non sappiamo? La cosa che più mi ha colpito riguarda i suoi interventi nelle università, anzi consiglio di andarli a leggere, quella alla Bocconi, all'Università di Trento, e ci sono tantissimi messaggi verso i ragazzi di grande speranza e di offrire la prospettiva di ragionare sulle cose che si possono fare. E da questo punto di vista, secondo me, c'è stata da parte sua una generosità verso chi studia, verso chi si prepara, forse come lui, da studente di filosofia, poi studente di diritto, poi ha fatto un percorso tutto legato a chi era lui, figlio di un marsciallo dei Carabinieri emigrato in Canada. Grazie per la visione!